ciao scorpione è venuto sul mio youtube canale dei thailand stalta roba che ci troviamo venuti su questa lettura per metà febbraio 2024 ti chiedo scorpioncino medio non far forzare questa lettura se non ti corrisponde questa lettura generale se vuoi una lettura privata con me trovi tutte le informazioni sul mio infobox se hai un sole un'ascendente una luna un venere un mercurio qualunque pianeta su questo su questo segno può essere questa lettura può far per te vediamo che succede per te my love team datemi per il mio scorpione per favore cosa scorpione può sapere per questa lettura no troppi quelle penne urano visto prima urano e chirone sotto il mazzo chirone in questo momento se n'arriete che sta nella nostra sesta stessa casa si questa fa cambiamenti e nuovi inizi cammi per favore per il mio scorpione questo urano materiali materialità che l'auto pesce adesso e decisione devi prenderti una decisione qualche si tratta del tuo materiale può anche essere della tua stabilità spiritual union o di mettere insieme un no delle entrate o creare insieme una vita perché mi dici devo prenderla questa decisione o mi sta a me adesso a prenderla nove due e undici portano due perché come l'ha sentito qualcuno arriva ti offre quello che ha e se sei tu a indicare o a capire o volere se la vuoi accettare una cosa così questa è anche una proposta di lavoro è non deve essere per c'è il spiritualità o deve essere destinato non lo so è come qualcuno dice guarda questo quello che ho che fa accetti può essere non lo so che cosa non lo so vediamo allora la ruota della fortuna sei di denari l'asso di denari la forza l'ostacolo il re di coppe per cosa non vedi tre di bastoni nove di bastoni così puoi aspettare e quattro di coppe cinque di spade sotto il mazzo qualcosa non ti torna qua vi dici perché adesso perché mi sta arrivando adesso questa situazione questa energia perché stanno cambiando le situazioni stanno cambiando i venti sono cambiando i venti non lo so ti vede un po e disinteressata o qualcuno tu pensi qualcuno mi interessa te no tanto questo non succede ecco una cosa così questa non può essere non sta succedendo a me no no questa no lascia sta una cosa così però invece il cambiamento c'è e come c'è però ti vede lo stesso un po come esausta non lo so il re il re di coppe questo è il challenge non so se sei un'energia verso di te con te o sei tu tre di bastoni così cosa non vedi aspetti che l'hanno inaspettato se si dice così la forza dipende a te se vuoi avere coraggio o no dipende a te vediamo l'asso di denari un nuovo inizio un uomo inizio dalla tua parte non lo so vediamo è strano vediamo questo momento scorpione quando inizio è tutto un po strano poi alla fine sembriva a ciappo quattro di spade l'imperatrice due di coppe cavaliere di bastone anno ma io sono scorpione tu devi mettere di più che ti pensi di essere chi pensi di bussare così alla porta vestito tutto così ma come ti permette venire con smoking e con le scarpe da ginnastica una cosa così non lo so io così non sono interessata ma chi come non sei interessata si dice sì ma io sono io sono l'imperatrice e ho capito che sei l'imperatrice però fai anche un po no tipo come si dice quel tipo sai cosa vuoi fai finta che non ha interesse scorpione ai fini fai finta che non ha interesse e come i fini ecco e come finte come ha interesse io non lo so ci devo pensare non lo so ci devo pensare quant'era quando ho fatto quella lettura mi sa che adesso non hai tempo eri tu mi sa che eri tu tipo non ho tempo non lo so non lo so fai finta comunque fai finta fai finta non è vero che non hai tempo o che non ha interesse dammi la ruota la fortuna la forza di nuovo e 6 di enari di nuovo lo prendo qua e il cavaliere di bastoni hard to get sono tosta adesso adesso non sono più non sono più facile per nessuno chi vuole giusto mi può volere però deve fare salti mortali per arrivare sulla mia energia ok dammi 6 di enari strano che subito l'ho detto questa la regina di coppe le amanti per il focus e l'as di spade a scorpione si ho capito che vuoi fare sa fare salti mortali a tutti però per una persona non non c'è scendita pagliata per una persona ti proprio il ghiaccio una granita no la granita catania no a 40 gradi immaginate voi la granita catania no sotto l'ombra no al sotto all'ombra no al sole immaginate ti sciogli come una granita ti sciogli come una granita per una persona no vuoi fare la dura scorpione la dura la vuoi fare ma no però la persona non ce la fai non ci riesci non ci riesci dammi la la forza ragazzo di coppe il lotto di denari e sete di bastoni la regina di bastone sotto il mazzo prima che dico qualcosa voglio fare un attimo questi tre poi ritorno e vediamo non lo so non c'è qualcosa qua che non mi torna vediamo dammi il re di coppe per per l'ostacolo cavalieri di denari l'eremita e the high priestess dammi il tre di bastoni per cosa si può aspettare scorpione il re di denari otto di bastoni e la ruota fortuna avendo qua dammi il nove di bastoni la torre quattro di bastoni wow è il re di bastoni e il cavalieri di coppe sotto il mazzo allora io ho capito tutto e meno male ho clarificato gli altri allora tu dici nel futuro allora tu abbiamo capito che sei dura no te tosta per conquistarti e va bene non non ti preoccupare vuoi fare così facciamo così e tu pensi vuoi 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 a scorpione ok puoi ottenere però di fammi vedere fammi vedere i fatti fammi vedere quello fammi vedere quello fammi vedere il tuo curriculum fammi vedere la tua con chi vivi per chi vivi i tuoi genitori i tuoi gatti i tuoi cani fammi vedere tutto quello che hai e poi se va bene ne possiamo parlare come dice mi devi metterti nuda nuda e mente fericamente e senza ti devi dimostrare come la natura ti ha fatta no mentre energeticamente sto parlando scorpione perché nel tuo nel tuo ostacolo a io sono cazzi scusate la mia eleganza sono cazzi perché sti questa energia dice ok vuoi nuda energeticamente vuoi vedere vuoi vedere come mamma 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 ha fatto ok ti dimostrerò però poi se ti piace non ti irritare indietro e siccome questa energia te lo presenta cosa vuoi mo so cazzi è per quello del suo ostacolo dice mo che faccio perché c'è un'energia qua che ti viene a ciappare e questo senza che te lo puoi manco immaginare neanche nei tuoi film neanche lo puoi neanche immaginare che impressionante scorpione è giuro impressionante perché quello che ti puoi aspettare non te lo saresti mai aspettata si sta parlando una trotta di statore benedetta io quasi tutti i re fatemi contare o tutti i ragazzi o tutti i re re di spade re di bastoni re di denari e il re di coppe qua ma tutti i denari tutti tutti i re perciò tu hai detto dimostri quello che hai come la natura ed ha fatto ecco l'intitolò così dimostrami come la natura ti ha fatto vuole vedere tutto di te bello e cattivo buono e brutto tutto lo sapere presentiti mettiti in mostra come ti ha fatto la natura mo so cazzi perché questa situazione questa persona energia ti dimostrerà quello per quello che sono scusate ti dimostrerà per quello che sono e quello che hanno no e poi sono state a decidere sono dire mo so cazzi mo so cazzi perché tutto è in tutto un tratto sarà tutto tutto in una situazione che non te lo potevi mai immaginare e poi mai per questo questa decisione urano di nuovo urano la ruota fortuna giove che c'ho giove c'ho libra bilancia gemelli pesci leone non so cazzi no dammi un consiglio e ne ho quattro 6 di denari 10 di basso sotto il mazzo il ragazzo di spade 6 di denari di nuovo la ruota la fortuna e 5 di denari non pensavi mai tu puoi essere che fantasticavi non lo so che facevi non lo so che facevi ti intrigava qualcosa provocavi non lo so non so è come dici l'universo come dici sì perché scorpione cominciava a provocare o si faceva sentire no o si sta facendo sentire si vuoi essere messo in evidenza però devi vedere il bello e il brutto devi vedere tutte e due però la prendi la lasci la lasci o la prendi che fai sta a te perché come tu mi dai l'input scorpione come che hai messo tu un po' questa provocazione in atto per vedere come ti viene no ridata eeeh mo' ciappatala fammi sapere scorpione di cosa si sta trattando ma chissà de che un like se ti è piaciuto noi ci vediamo molto presto domenica ci vediamo domenica per la lettura settimanale e un bacio grande grande a tutti voi voglio tantissimo bene un saluto alla tua Luana e ciao